Vittorio Sgarbi, Ornella Muti, Salvo Sottile, Marco Bocci, Fausto Leali, Adriana Volpe e Federico Zampaglione saranno tra i protagonisti del diciottesimo premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che si terrà il prossimo 5 agosto a Santa Margherita di Belice. Come è noto, la prestigiosa giuria, preseduta da Salvatore Silvano Nigro, premierà quest'anno il romanzo dello scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, La Bella Confusione, pubblicato da Einaudi. La cerimonia è prevista presso il Seicentesco Palazzo Filangeri di Couto, in Piazza Matteotti, nell'ambito del Festival Gatto Pardiano, che dal 3 al 6 agosto unirà letteratura e musica, storia e sapori. Il premio Tomasi e il Festival Gatto Pardiano sono organizzati dal comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall'istituzione Tomasi di Lampedusa, preseduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della regione siciliana, assessorato regionale del turismo e in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi. Il premio si avvale della direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia. e della direzione artistica di Antonella Ferrara, fondatrice e presidente del Festival Letterario Tabuc. La cerimonia sarà condotta da Salvo Sottile e Adriana Volpe, conduttori entrambi di programmi televisivi di successo, come i Fatti Vostri. Tra gli ospiti Marco Bocci, che leggerà alcuni passi del Gatto Pardo, e Ornella Muti, tra le più note e amate attrici italiane. Ad esibirsi l'orchestra sinfonica siciliana Fausto Leali e Federico Zampaglione, cantautore e frontman del Tiro Mangino. Presenti pure la scrittrice Silvana Laspina e il maestro Nicola Fiasconaro 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 Grazie a tutti